Un mio amico mi ha detto di entrare su minecraft e provare subitissimo questa mod La mod si chiama all filler ovvero riempi buchi Perché dovete sapere che io nelle vanille di minecraft sono molto pignolo E se esplode un creeper e qualcuno non lo aggiusta io mi arrabbio con quella persona Questa mod viene proprio al caso mio Infatti ci dà queste sorte di palle di neve Per esempio se prendiamo questa qua possiamo scegliere il blocco che vogliamo far sì che venga riempito questo buco La lanciamo qui dentro e vedete che il buco si aggiusterà da solo E questi qua sono blocchi fittizi che se ci piace li lasciamo qua Altrimenti facciamo così e si toglie tutto e possiamo riprovare a farlo Allo stesso modo possiamo farlo anche con questo qui che è più intelligente Vedete va a plasmare anche il terreno qua attorno Oppure possiamo riempirle con l'acqua Questo ghiaccio tra poco diventerà acqua Oppure allo stesso modo possiamo riempirlo di lava per esempio Ma in realtà la mia preferita è questa qua intelligente Torno qua per farvi vedere che l'acqua è diventata acqua e la lava è diventata lava Questa mod è davvero un 10 su 10 Anche perché io perdo davvero un sacco di tempo ad aggiustare gli buchi delle esplosioni E questo invece lo fa in automatico quindi top provatela anche voi E questo invece lo fa in particolare è un'acqua